Si sfiorano gli 80.000 nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia, per la precisione 79.920. Questo è il dato dell'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente, secondo il bollettino aggiornato al 10 luglio, consultabile dal sito del Ministero della Salute. Di questi sono 6.436 casi in Sicilia. Per quanto riguarda la provincia, l'aggiornamento dell'Aspenissena del 10 luglio relativo alle 24 ore precedenti parla di 325 pazienti positivi al SARS-CoV-2. Tutti in isolamento domiciliare. 128 di Gela, 86 di Caltanissetta, 29 di San Cataldo, 23 di Niscemi, 15 di Mazzarino, 10 di Campofranco, 7 di Mussomeli, 5 di Butera, 4 di Milena, 4 di Santa Caterina Villarmosa, 4 di Riesi, 3 di Serra di Falco, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Sommatino e 2 di Villalba. Due i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, uno di Caltanissetta e uno di Gela. Di messi invece sempre dall'adegenza ordinaria, un paziente di San Cataldo e uno di Gela. Registrato un decesso di un paziente di Caltanissetta. Guariti infine 60 pazienti di Gela, 51 di Caltanissetta, 23 di Niscemi, 10 di Mussomeli, 10 di Vallelunga Pratameno, 7 di Mazzarino, 7 di San Cataldo, 5 di Campofranco, 4 di Butera, 3 di Milena, 3 di Riesi, 3 di Serra di Falco, 3 di Sommatino, 1 di Delia e 1 di Sotera.